Salve a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video del canale. Oggi torna la rubrica comprare o no ed il set che andiamo ad analizzare insieme è due lanti leggendari Rabbia di Ra in uscita il 24 settembre. Prima di parlare degli archetype e delle carte nuove e ristampe contenute qua dentro partiamo dalla classica e noiosa scheda tecnica. Rabbia di Ra è un set di 57 carte con una ghost, 9 ultra, 8 super, 10 rare e 30 common. Ogni box contiene 36 buste e ogni bustina contiene 5 carte. E sì avete capito bene dentro questo set torna dopo eoni la rarità ghost. Purtroppo però per il momento è riservata solo al drago alato di Ra che dovrei avervi messo sicuramente in editing ma accontentiamoci magari la riporteranno anche in set futuri. Terminata l'obbligatoria scheda tecnica direi che è arrivato il momento di spendere due parole riguardo ai tre archetype supportati qua dentro ovvero Jinzo, Ra e Mclord. E poi passeremo come sempre molto velocemente perché non c'è tanto da vedere questa volta sul Konami Cardi B. Partiamo da Jinzo che è, spoiler, probabilmente quello messo peggio dei tre. Il deck sulla carta vorrebbe avere una strategia decente sia come going first che come going second con la possibilità di rubare fra virgolette mostre dell'avversario utilizzando il Jinzo Layered per intenderci l'XS rank 6 che non è contenuto in questo set ma è uscito qualche giorno fa con Draghi della Leggenda la serie completa che non ho portato qua sul canale perché era praticamente un set di solo ristampe con 5-6 carte nuove basta e in mezzo a queste 5-6 carte nuove c'era anche questo Jinzo. Magari avere la possibilità di attivare l'effetto della continua incanalamento del cosmo che mandando un mostro di proprietà dell'opo al Cimi può far specialare un mostro macchina da mano Cimi e potenzialmente andare a sbriccare delle mani di legno che sicuramente avrete spesso con il deck. Per quanto riguarda invece il discorso going first l'idea di base sarebbe quella di calare il vecchio Jinzo contro mazzi con base trappolosa sperando che basti per loccarli. Spoiler, non basta per bloccarli. Oppure usare alcune delle nuove magie di supporto che possono rendere un Jinzo indistruttibile per un turno e semplicemente rimandare l'inebitabile F che vi piomba addosso. O ancora carte come Shock Cyber Energia che è sostanzialmente uno spacchino quick per disturbare le giocate dell'avversario ma purtroppo è attivabile solamente una volta per turno e quindi è una carta con tanti limiti. Il mazzo puro detta francamente non entusiasma per niente viene smontato con una facilità incredibile da un qualunque tipo di negazione o interruzione ben piazzata. In Giappone dalla disperazione si è provato di renderlo vagamente giocabile mescolando il deck con alcune carte Orcus ed è probabilmente l'unica versione del deck che ogni tanto può portare mezzo game a casa. Vi devo dire la verità che mi ha abbastanza deluso questo supporto mi aspettavo qualche cosina in più. Successivamente abbiamo il drago alato di Ravioli. Dopo questa battuta potete anche chiudere il video, non sto scherzando. Beh che dire ragazzi, dopo tanto tempo finalmente arriva qualcosa anche per le divinità vere. Non ce la prendiamo con le bestie sacre ma insomma le divinità sono Ra, Slifer e Obelisk e c'è poco da dire. Peccato che non ci sia qualche nuovo giocattolino anche per Slifer e Obelisk ma magari prima o poi arriverà una wave di supporto solo per loro, chi lo sa. Tornando ai supporti di Ra, beh il mazzo è molto divertente. Ha a disposizione un bel po' di cartine nuove interessanti come la poltiglia divinità egizia che protegge se ricordo bene il resto della vostra board da battle e da effetti carte e può essere utilizzato come tributo intero per calare mega ultra chicken ed è una cosa ottima. Melma guardiana che è un'altra buona carta perché se va da campo o mano al cimi vi dà un cerchino per magia e trappola che hanno nel testo Ra e quindi ha una buona sinergia con altri archetype o anche con altre carte che solitamente qua dentro non ci entrerebbero molto come ad esempio i danger. Canto antico è un cerchino per il drago alato di Ra ed ha anche un'occasione sprecatissima perché può aggiungere solo lui e non vi dà la possibilità di dare la palla di Ra dal mazzo e se fosse stata cercabile beh sarebbe stata molto utile la carta. Non sono solo queste le carte di supporto ma sono quelle un pelino più interessanti e magari le altre le vedremo con calma sul Konami Cardi B. In sostanza comunque il deck è da giocare come Going Second Ignorante. Il problema è che purtroppo la sfera di Ra tante volte non è calabile contro alcuni dei dei del momento e quando capita sei molto triste. In più il deck non ha troppissimo spazio per le tecce e soprattutto per le staples rompi board ed è un problema. Giocando tanti grossoni anche con i potenziali cerchini è ovviamente prone al bricare e salvo i momenti leggendari dove va a calare la sfera di Ra su una board intera la va a pulire il deck molto spesso resta semplicemente superdevole alle classiche negazioni che possono essere sia sul tavolo che in mano all'oppo. E per finire in bellezza direi che è arrivato il momento di parlare di Mclord, un archetype che prima di queste supporto i ragazzi era messo male 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 ma male male. Era letteralmente una pila di carte confuse senza capo né cuda. Le nuove carte introdotte qua dentro hanno il classico odio che contraddistingue questo archetype per i sincro e va a portare delle piccole combo che si basano sulla distruzione delle vostre carte che vi offrono cerchini e pop sulla back row dell'avversario. Tutti i nuovi mostri sono utili, chi più chi meno, e soprattutto il nuovo boss monster di Mazzo mi piace veramente tanto. Si chiama Triskelion, è un vittone da 3k che si evoca bannando 3 Mclord con nomi diversi dal cimitero, quindi vi obbliga di diritto di rovescio a giocare un mazzo abbastanza vario per quanto riguarda i nomi dei Mclord e con tanti Mclord dentro. Sarebbe bello vedere delle restrizioni del genere anche su altre carte di qualità, ma chiudiamo qua la parentesi. E su dichiarazione d'attacco vi fa guardare l'extra dell'oppo, scegliere un mostro e se lo va a equipaggiare e guadagna attacco pari all'attacco dei mostri equipaggiati, in questo modo. Se poi il mostro che avete rubato malamente all'avversario era un synchro, il Triskelion può andare a effettuare fino a 3 attacchi su mostri con una cattivire incredibile. Ovviamente avrete capito che anche questo deck va buildato come un going second e quindi soffre, alla fine della festa, degli stessi problemi del RAR. Però dei 3 archetype supportati qua dentro è probabilmente quello che mi convince un po' di più. Questo comunque è tutto per quello che riguarda i nuovi supporti, diamo un'occhiatina veloce alle carte sul Konami Cardi B. Quindi ragazzi eccoci qua sul Konami Cardi B, oggi staremo un pelino meno qua sopra, anche perché gli effetti più significativi sono già stati discussi. Partiamo da questo drago alato di RAR che ha un artwork diverso e questo è quello che sbustate normalmente, diciamo. Il tradizionale lo trovate solo sulla Ghost. Qui abbiamo le varie carte di supporto dedicate a RAR. Grandissimo peccato, come vi dicevo anche prima, per canto antico che se avesse aggiunto anche palla di RAR, mannaggia, sarebbe stata sicuramente ottima, ma pazienza. Poi abbiamo Canone Fiammata, Rivelazione del Millenio e Unificazione Divinità del Sole, che sono altre tre cartine di supporto, sempre per il Mazzorale. Andiamo alla sezione delle ristampe generiche. Machiura finalmente con il test aggiornato. La Konami ha aspettato tantissimo per approdare il nuovo testo qua sul database e qualcuno, se voleva fare il birbone, poteva pure giocare Machiura FTK in questi giorni di non errata. Procedendoci giù, Ragedo, blocca braccia e blocca gambe, che insomma sono delle ristampe proprio super dimenticabili e dei grandissimi slot sprecati. Io sinceramente avrei infilato qua dentro la sfera di RAR e forse anche il RAR Fenice, però magari sono solo io pazzo. Mostro il suscitato che direi che non aveva proprio bisogno dell'ennesima ristampa. Sacrificio del braccio sinistro che non è troppo male. Il vero nome che purtroppo è una carta quasi impossibile da giocare, a meno che non andiate a montare dei mazzi stranissimi per poterla risolvere. E per concludere, Pottiglia Rifletti Metalli, che ha senso perché ovviamente serve per calare il nuovo fusione obelisco che abbiamo visto sopra. Poi abbiamo il reparto dedicato alle carte Mechlord. Quello più ficcante è il Triskelion, c'è poco da dire, una grandissima carta. Anche gli altri nuovi non sono troppo male, soprattutto schieramento obbligato è infinito fondamentale. Schieramento obbligato è molto molto carino perché praticamente durante la main si spacca e vi fa evocare due carte Mechlord dal deck in difesa, tranne che altre copie di se stesso. Poi vi va a loccare in macchina per il resto del turno. Però la cosa buona è che vi va in combo con montaggio Mechlord, perché se uno più i mostri Mechlord scoperti e i controlli vengono distrutti, imbattolo per effetto carte, sceglie una carta magia o troppo la scoperta sul terreno e la spacchi. Quindi può andare a rompere delle cartine problematiche sul campo dell'avversario e non ci dispiace. E procedendo abbiamo tantissime ristampe. Credo che ci sia tutto Mechlord qua dentro o comunque sia tutte le carte che vi servono effettivamente per giocare il deck. Quindi non troppo male questo repartino di Mechlord. E poi arriviamo alla sezione abbastanza memotta, quella con le carte Ginzo. A me dispiace tantissimo che sinceramente queste carte Ginzo non ne abbiano assolutamente, perché io adoro Ginzo e soprattutto mi piace tantissimo anche Mega Cyber, perché è una carta che giocavo quando ero piccolo. Però purtroppo questa cozzaglia di carte Ginzo, ragazzi, è quasi, e dico quasi, ingiocabile. L'ho provato pure il mazzo, l'ho provato come Going Second. Non ho ancora provato la versione con Orkust, ma insomma vi posso dire che non convince assolutamente. Potevano fare un lavoro sicuramente migliore con queste carte di Ginzo. Veramente molto 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 deludenti. Scendendo poi troviamo le classiche carte di archetype ristampate. Ginzo originale, Ginzo richiamo, supremo, Jektor. Controllo della mente che è una ristampa carina. Controllo della mente che ci può stare. E un'altra trappola che è praticamente inattivabile. E scendendo poi proseguono ancora le ristampe. Discipo lo dirà. Sinceramente io questa carta qua dentro non l'ho capita, anche perché se ricordo bene dovrebbe essere stata ristampata qualche giorno fa, anche nell'altro set di Draghi della Leggenda. Quindi non capisco perché ristamparla 600 volte, ma pazienza. Altre carte dei Mechlord. Compare un mosto selvaggio. Moonth del creatore dei legami. E poi altri slot abbastanza sprecati con gelati segna mostro e carica di segna mostro. Che a parer mio potevano essere occupati magari da qualche import che manca qui da noi. E l'ultima carta di questo set è un Behamut Aura Bianca. Che se ricordo bene era una promo di un manga. Il problema è che non importano mai le promo un pelino più significative. come quella dell'Odise e quella del DDD, ma pazienza. Prima o poi si spera che arriveranno. Bene ragazzi, eccoci quindi a fine video. E come al solito ci poniamo la solita domanda. Ovvero, vale la pena comprare uno più box di questo set? Oppure no? La risposta, questa volta, incredibilmente, chi se lo sarebbe mai aspettato, è un no. Gli archetype qua dentro non convincono particolarmente ed è un prodotto che posso solo consigliare a chi vuole assolutamente alcuni di questi mazzi per divertirsi o per nostalgia senza tante pretese. O a chi vuole provare l'investimento a lungo o medio termine che comunque dovete considerare che sarà sempre a rischio di possibili ristampe. Poi possono arrivare fra un anno, possono arrivare fra due anni. Abbiamo capito che ormai nulla è al sicuro dalle ristampe Konami. Comunque bisogna tenere in considerazione che tutte le carte dedicate a Ra e soprattutto la Ghost dovrebbero mantenere un minimo di valore nel tempo perché sono carte collezione, sono carte nostalgia. E proprio per questo ragazzi, indipendentemente da che cosa fanno le carte, ci sarà sempre qualcuno che sarà interessato a questi supporti Ra. In ogni caso, come al solito, sono curioso di sapere cosa farete voi, quindi se comprerete box, comprerete singole oppure ignorerete totalmente il set. E siccome immagino che qualcuno qua sotto nei commenti mi chiederà cosa farò io, penso che salvo prezzi stracciatissimi, che sono comunque sia abbastanza difficili, soprattutto dove prendo le carte io, ignorerò totalmente le carte di questo set. In ogni caso, come al solito, vi saluto e vi rimando ai prossimi video del canale. Ciao ciao!